Buongiorno a tutti e ben ritrovati, io sono Lodovico di Incau e questa è la Masterclass di Microsoft Excel. Siamo arrivati alla lezione 15 e quest'oggi andremo ad approfondire che cosa sono i grafici pivot, quindi vedremo come funzionano, come si realizzano e tutte le proprietà che stanno dietro a questo tipo di grafici. In più faremo un ulteriore approfondimento sulle tabelle pivot, comunque sia i due argomenti sono strettamente legati tra loro, perché fare una tabella pivot o fare un grafico pivot è praticamente più o meno la stessa cosa, solo che il grafico espone e grafica appunto le informazioni, le tabelle pivot invece esplodono i dati che vogliamo vedere nella nostra tabella pivot. Allora andiamo nel file di esempio che ho preparato, praticamente io qui ho preparato una tabellina di dati con due misure, così vedremo anche la particolarità di utilizzare due misure all'interno della nostra tabella pivot barra grafico e qua abbiamo appunto dei campi di tipo dimensione, quindi abbiamo la stagione, il rappresentante e il prodotto. Perfetto, abbiamo visto che per fare un grafico basta andare nel menu inserisci e qui abbiamo i grafici, andiamo a realizzare i grafici classici di Excel, però ci sono anche i grafici pivot, abbiamo due modi per realizzare un grafico pivot. Se noi clicchiamo vedete possiamo fare un grafico pivot, piuttosto che possiamo fare un grafico pivot e tabella pivot. Allora se noi abbiamo una tabella classica di Excel, questa vedete c'è il menu contestuale, quindi è una tabellina, ma anche se non è una tabella, ok, quando noi andiamo a fare il grafico pivot, selezionando la nostra area oppure l'intervallo della nostra tabella, ipotizziamo che non voglio la tabella pivot, quando clicco qua e gli dico guarda, creamolo sul foglio esistente in questa posizione qua, lui comunque quando gli vado a dare l'ok mi crea sia la tabella pivot che il grafico. Che cosa succede? Che quando io qua vado e mi tiro giù ad esempio le stagioni sulle, anzi il rappresentante me lo tiro giù sulle righe, vedete che mi ha tirato giù l'informazione del rappresentante sia sul grafico che sulle righe della tabella pivot. Se poi inserisco l'unità misura sui valori, vedete che il mio grafico inizia a funzionare e qui mi mette appunto il rappresentante sotto e mi espone poi la quantità, ok, per le unità vendute. E' esattamente quello che vedo sulla pivot, se io sposto il rappresentante in colonna, ok, vedo un totale, perché sto facendo un totale sulle mie righe, e vedo esploso per argomento, vedo tre histogrammi con tre colori differenti, esplosi per il nome del rappresentante con la somma appunto della mia unità vendute. Ok, io potrei dire, ok, ma io voglio vedere solo il grafico, io non voglio vedere anche la tabella pivot, eppure prima quando noi abbiamo cliccato menu inserisci, grafico pivot, ok, noi gli abbiamo detto effettivamente che volevamo solo un grafico pivot, ma questa opzione è disponibile solo se noi andiamo a mettere questi dati qua in un modello di dati che si chiama PowerPivot. Questa feature è disponibile solo dalla versione 2013 di Office in su, tutte le successive ovviamente è compatibile. Questo è un modellino, un menu che si chiama PowerPivot, voi sicuramente non lo vedete, eventualmente se lo volete abilitare, menu file, si va giù su altro, si fa opzioni, qui si va su dati e si abilita qui questo componente qua, piuttosto che si va su componenti aggiuntivi, se non c'è quella flag lì, si va su componenti com e si fa buy, e qui si attiva PowerPivot. Però adesso questa non è una lezione su PowerPivot e tutta la potenza che ci può dare PowerPivot, questo è solo per farvi vedere dove finiscono i dati, praticamente quando noi facciamo menu inserisci, grafico pivot, grafico pivot, ok? Qua c'è questa voce qua, qua giù vedete c'è, aggiungi questi dati al modello di dati. Quando noi fleghiamo questa opzione qua, significa che lui prende i dati di questa tabellina qua e li mette dentro a questo strumento che per il momento non andiamo ad approfondirlo. Noi sappiamo solo che metti i dati dentro a questo strumento, quindi noi gli diciamo guarda creolo nel foglio esistente, me lo crei qua. Se adesso noi diamo l'ok avendo fatto anche questo flag qui, vedete che effettivamente mi va a creare solo il grafico senza avere anche la tabella pivot di supporto sopra, perché a me interessa solo l'elemento del grafico. Se invece appunto vorrei avere il grafico anche con la tabella pivot, posso comunque fare grafico a tabella pivot pur avendo aggiunto anche i dati a questo modello dati, così poi una volta che li ho aggiunti, li ho aggiunti. Comunque adesso lavoriamo solo sul grafico. Come vedete qui è come se fosse una pivot, vedete c'è il riquadro dei campi che avevamo di qua. Quindi che cosa possiamo fare qua? Ad esempio noi dicevamo, tiriamo giù ad esempio i rappresentanti sull'asse delle categorie, vedete qui c'è, non c'è più nome colonna, nome riga, qui c'è filtri, ok? Che quelli sono i filtri che mettiamo sull'intestazione di pagina, la leggenda della serie e l'asse delle categorie. Quindi se noi andiamo a mettere il rappresentante sull'asse delle categorie e poi ci tiriamo giù una misura, ecco che vediamo che appunto l'asse, ok? È questa qui, l'asse categorie, quindi è la parte che riguarda praticamente le righe della nostra tabella pivot. Bisogna sempre un po' ragionare come era sulla tabella pivot. Se metto il rappresentante sull'egenda è come se lo mettessi sulle colonne della tabella pivot. Se io mi tiro giù ad esempio, facciamo la stagione, io vedo diviso per ogni stagione, all'interno di ogni stagione io ho per ogni colore, vedete, per ogni rappresentante ho un colore, perché ho messo il rappresentante sulle colonne e la stagione sulle righe, sugli assi. Quindi per ogni stagione ho la stagione e all'interno della stagione ho gli histogrammi divisi per il rappresentante. Se io inverto le cose posso fare analizza grafico pivot e questo è valido anche con i grafici standard. Vado su progettazione, qui c'è il bottone inverti righe e non fa altro che spostare questo nelle assi e le stagione me le mette sulla leggenda, solo che qui faccio solo un click. Qui cosa succede? Succede l'esatto posto, ho il rappresentante sposto sotto e le stagionalità all'interno di ogni rappresentante. Così vedo ogni rappresentante come sta appunto lavorando. Io ovviamente qui posso tirarmi giù anche la stagione e me le posso mettere tutte e due nel riquadro delle assi. Quando io tiro giù questa cosa qua vedete che qui compaiono dei più e dei meno. Se lo tiro giù vedete compaiono dei più e dei meno, perché io posso andare a fare anche un drill down. Quindi io qua posso andare a mettere più dimensioni e quando premo il più posso vedere l'esploso. Ad esempio io voglio dare un grafico aggregato per stagionalità, però poi voglio fare un'analisi di dettaglio e posso fare col drill down di questi bottoni qua. Ok, lo posso fare solo con i grafici pivot. Faccio un bel più e ecco che vado a fare un drill down dei miei dati. Quindi entro nel dettaglio di ogni stagionalità e vedo il rappresentante come ha lavorato e vedo che qui ad esempio su turno Giorgio è la persona che ha lavorato meglio. Vediamo qui che ci sono tutti questi bottoni grigi che ci sono qua intorno e potrebbero dare fastidio perché ogni volta che tiro giù un campo, vedete tiro giù il prodotto, adesso vado a fare un dettaglio ulteriore, ma comunque ogni volta che inserisco le cose, tiriamo sulla stagionalità così abbiamo anche la leggenda, compaiono sempre questi riquadri grigi che potrebbero dare fastidio. Potrebbero essere utilizzati per fare dei filtri, ad esempio io qui voglio escludere una stagionalità quindi ce li ho esposti sul grafico, clicco qua, deseleziono autunno e dal mio grafico sparirà autunno. Io posso anche andare qua, vedete, e qui non trovo molte informazioni a riguardo per fare i filtri però posso andare qui, su questa parte qua, premo qui e ottengo comunque il mio filtro. Quindi potenzialmente questo potrei farlo sparire tutti quanti. Quindi come si fa a far sparire questa cosa qua e come potrei far sparire anche il più e meno se non voglio permettere il drill down? Si va su analizza grafico e qui ci sono queste cose qua, pulsanti e campo. Se clicco qua, vedete, qua ci sono tutti i flag che riguardano, ad esempio, modifica, mostra pulsanti, campo, asse. Se li tolgo sono spariti solo quelli sull'asse. Se tolgo quelli della leggenda, spariscono quelli della leggenda. Se voglio farli sparire tutti in un colpo, premo qua e faccio nascondi tutto. Così nascondo tutto, anche i pulsanti più e meno del drill down. Quindi se quelli non li voglio far sparire tutti, devo andare qui, lascio solo questi, che è mostra pulsanti espandi con primi filtro e tolgo tutti gli altri. Così facendo appunto il mio grafico che è possibile fare il drill down. Perfetto, abbiamo capito fino a qua come funziona questa cosa qua. Adesso tolgo la stagionalità e prendo ad esempio il prezzo. Qua mettiamo anche, che facciamo impostazioni lavori, gli diciamo che è unità venduta, gli diamo ok così i nomi sono più corti e qua facciamo somma di prezzo. Poi vediamo che ad esempio il prezzo, ok, è molto molto basso. In più qua vediamo che il prezzo è senza la valuta, quindi noi possiamo fare un bel clic qui dove diventa nero. Andiamo sul menu home e qui ci applichiamo la valuta, lì diciamo ad esempio euro. Ecco che qui ho la valuta. Dopodiché io potrei dirgli, guarda, mettimolo sul secondo asse. Quindi andiamo tasto destro sul grafico, andiamo giù in fondo e facciamo cambio a tipo di grafico ad esempio. E andiamo su combinato. E qui ecco che possiamo combinare le cose, gli diciamo che il prezzo lo vogliamo sull'asse secondario. Eccolo qua, lo mettiamo di qua. Adesso magari il posto del rappresentante, mettiamo la stagione, così vediamo un andamento che va su e giù in base alla stagione. Ecco che abbiamo ottenuto il nostro risultato. Quindi abbiamo la stagione unità qua, abbiamo diviso le cose e abbiamo due unità. Quando noi tiriamo giù, adesso lo tolgo un attimo, vedete, quando io tiro giù il prezzo, da qui vado e tiro giù il prezzo nel mio riquadro di valori, qua su, su leggenda, compare praticamente una voce, valori. Adesso rimettiamola ancora con combinato, andiamo qui, facciamo secondario, mi compare questa cosa di valori. E quindi quando uso più quantità all'interno del mio riquadro di valori, qua mi compare questa cosa qua. E quando compare questa cosa qua, io potenzialmente potrei andare a spostarlo anche sulle assi. Quindi vedete che quando sposto i valori sulle asse, lui che cosa fa? Io ho unità venduta e prezzo. Quindi se lo tengo sulla leggenda, mi fa la divisione di unità venduta e prezzo all'interno della stagionalità. Se io sposto i valori sulle assi, ok, mi fa unità vendute e mi fa tutte le stagionalità, prezzo e mi fa tutte le stagionalità. Ovviamente sempre qui potrei fare cambio a grafico, andare su combinato e, scusate, qui ovviamente non trovo niente perché? Perché le ho messe praticamente tutte in riga. Qui potrei fare, ad esempio, che il drill down qui non funziona. Se io tiro, ad esempio, la stagionalità, la tiro su, vedete che lui mi divide, praticamente mi fa le due colonne, delle due misure, e me le divide per le stagionalità con i colori. Quindi si può giocare veramente molto con questi riquadri. In base a come mettete le informazioni, cambiano appunto le informazioni di come compaiono qui. Ovviamente il grafico pivot, quando io l'ho creato, mi ha fatto l'istogramma, ma posso andare qui, cambio a tipo grafico e gli posso dire, guarda, non voglio il grafico pivot, voglio il grafico a barre, piuttosto che voglio il grafico a torta o qualcos'altro. Quindi, ad esempio, lasciamo questo, poi vedevamo appunto che facendo cambio grafico, vado sul combinato, anche qui posso andare a cambiarlo, ad esempio, sul prezzo avevo messo delle linee e l'avevo posizionato sul secondario. Bene, questo è il grafico pivot, però che cosa possiamo fare in più? Adesso noi prendiamo, ad esempio, anzi andiamo sulle unità vendute e facciamo clic qua e possiamo fare impostazioni campo valore. Qui c'è una cosa che non abbiamo ancora vista, praticamente, a parte che possiamo cambiare tra somma, conteggio, media, minimo, massimo, eccetera, ok? E qui compare anche il distinct count, perché quando mettiamo i dati sul modello di dati compare anche questa feature qua del distinct count. Se invece facciamo un grafico standard, normale, anche se è un grafico pivot, il distinct count non esiste. Ma se noi andiamo su mostra valori come, ok, adesso togliamo il prezzo, ad esempio, io voglio vedere questi valori qua sulla percentuale del totale, quindi vado in su impostazioni campo, vengo qua e gli dico, guarda, voglio la percentuale del totale complessivo. Se gli do l'ok, lui mi esprime i valori in percentuale, vedete che qui si è trasformato tutto in percentuale, quindi lui fa la somma di tutta la mia misura. E mi spacca queste informazioni qua in modo che il totale di queste tre colonne qua mi diano 100. Difatti qua ho 30, qua ho un bel 19, 20, vado a 50, qua ho un 23, vado a 73, qua arrivo con un altro 27 e vado a 100. Quindi lui mi spacca le colonne con il percentuale. Però questa cosa qua è interessante perché non ci sono solo le percentuali sul totale complessivo, ma anche la percentuale di colonna. Quindi se io clicco qua, adesso qui non è il caso, ma comunque ho altre informazioni. Adesso proviamo a fare una pivot con queste informazioni. Andiamo qua, facciamo inserisci, tabella pivot che sicuramente è più chiaro vederla in tabella, la mettiamo qua. Se noi adesso ci mettiamo il prodotto e poi ci mettiamo il rappresentante sulle colonne, anzi mettiamo la stagione sulle colonne e io voglio vedere, ok, quante unità ho venduto sulle varie stagioni. Quindi adesso qua ci mettiamo anche la punteggiatura, ho fatto praticamente le proprietà lì, formato numero, numero e qua li metto il separatore di migliaia così vediamo meglio. Però io voglio vedere, ad esempio, togliamo il grafico nel frattempo, come vanno le cose tra una mensilità e l'altra. Allora, adesso tra una stagionalità e l'altra, quindi io potrei fare anche clic destro qua, che è come fare praticamente clic sinistro giù sull'impostazione di valore. Quindi qua potrei cliccare qua e fare impostazione di lavoro, piuttosto che lo faccio direttamente alla tabella pivot. E qua trovo mostra valori come. Io gli potrei dire, guarda, fammi la discordanza tra la stagione precedente, successiva, oppure estate, autunno, eccetera. Io voglio fare la discordanza valutando tutto quello che è stato fatto in autunno. Quindi prendo ad esempio autunno, ecco che io qua ho appunto la discordanza tra autunno. Adesso magari togliamo il totale complessivo che fa confusione, vedete? Io ho qua l'autunno che non è riportato, perché autunno su autunno mi fa zero, ok? Però l'estate è andata peggio, l'inverno anche, è andato così così e la primavera anche. E qui invece le uova e le zucche sono andate meglio. Se io voglio vedere anche le quantità originarie, ok? Vedete qui ho, mettiamo unità vendute e ci mettiamo magari unità vendute discordanza, ok? Così lo capiamo meglio, ok? E poi ci tiriamo giù di nuovo la stessa quantità. Se me la tiro giù e dopo magari facciamo così e gli diciamo, facciamo UT, vendute, ok? Vediamo che praticamente lei colora, anche che così si capisce meglio. Vedete, ho tirato giù due volte la stessa informazione, però la prima volta ho tirato giù la quantità e poi l'ha trasformata in discordanza. Infatti vediamo che noi in autunno, vedete che questo è l'autunno, ho 2255. Infatti sull'estate che è a zero, vedete che ho a zero, mi dà una discordanza di 2255. Sull'inverno ne ho venduti praticamente 1550, quindi lui fa 2255 meno 1550 e mi dà appunto 705. Questo è solo per farvi capire che in realtà le tabelle pivot sono molto più potenti di quello che possono sembrare perché appunto abbiamo una serie di funzionalità che fanno dei calcoli per noi in modo veramente molto molto rapido. Ripeto, torno ad esempio sul totale complessivo, ecco che lui mi fa le percentuali rispetto al totale complessivo. Se le faccio sulla colonna, mi fa le percentuali, questo ad esempio fa 100, me lo fa sulla colonna, quindi vedo sull'autunno qual è il prodotto che ha più venduto su questa stagionalità perché lui riproporziona la quantità sul totale della colonna. Infatti se mi tiro giù di nuovo le unità vendute vedete che appunto ha queste quantità e vedo che appunto qui ho lo zero. Bene, direi che abbiamo visto un po' tutto. Ricordatevi, grafici pivot, menù inserisci, qui abbiamo il grafico, mettete i dati sul modello di dati così potrete farli in modo svincolato dalla pivot. Le tabelle pivot ma anche i grafici perché questo ripeto è valido anche per i grafici pivot, abbiamo più questo pannellino dove possiamo andare a fare mostra valori come e qua abbiamo tutta una scelta di funzioni che ci permettono di avere dei risultati senza andare a fare formule particolari nella nostra tabella. Bene, se questa lezione è stata di vostro gradimento come sempre lasciate un bel like al video, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale, vi ringrazio molto per l'attenzione e ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao! Ciao!